barone vassallo siamo al 30 marzo 2023 buonasera a tutti questo sarà un video un po più corto del solito questo lo caricherò sul canale storico su barone vassallo motore italia ed è semplicemente una piccola riflessione stavo seguendo perché io sono appassionato di tutta la storia sia classica dell'italia che anche politica e quindi ieri stavo vedendo il video di sulla storia sulla vita di Bettino Craxi si faceva menzionamento o comunque passavano le immagini di quando lui uscì dal parlamento fu urlato fu beffeggiato dal pubblico le persone che gli dicevano addirittura nell'intervista si diceva che una signora gli aveva detto che lo voleva vedere morto che voleva vedere lo voleva vedere chi lo voleva vedere in galera chi lo voleva vedere distrutto chi lo voleva vedere morto sapete quando in certe certe situazioni si perde totalmente il lume della ragione e nonostante questo canale che stavo vedendo fosse un canale prevalentemente di sinistra quindi immaginavo di vedere i commenti che andavano contro Craxi che andavano a favore di quello che fece il l'allora magistrato di Pietro invece stranamente ho visto un totale quasi di persone che rimpiangevano questo grande uomo politico e molte persone facevano delle riflessioni dicendo quanto poi successivamente avessimo avuto dei politici che erano praticamente degli scalzacane persone che non sapevano fare dei discorsi come quelli che faceva Craxi i discorsi di Craxi molto articolati molto pagati molto ben comprensibili sia nel contenuto che nella forma e quindi dopo la bellezza di 30 anni si capisce come certi personaggi fossero tremendamente superiori a quelli a qualsiasi personaggio politico della sfera attuale quando Craxi parlava di Sigonella quando Craxi parlava dell'entrata nell'euro Craxi fu uno si dice che probabilmente lo hanno silurato per questa ragione perché lui non voleva entrare nell'euro con con quei parametri con quelle condizioni che mettevano l'Italia in serio pericolo economico e purtroppo è stato poi quello che abbiamo visto quindi questo video per riallacciarmi a quello che dicevo domenica scorsa sul sui ragazzi sul fatto che i giovani hanno invidia hanno nostalgia di quello che quelli più grandi di loro hanno vissuto ecco credo che ad oggi sia anche nostalgia e invidia di quella politica che pur se non perfetta ma non era il totale genocidio praticamente la totale distruzione la totale mancanza di di qualsiasi presupposto di volere sviluppo di volere benessere di volere un'Italia grande forte un'Italia che ricomincia a produrre ad essere grande nel mondo lui contestava il fatto che tante aziende di stato non fossero più di stato e purtroppo questo è vero quando c'è il finanziamento dello stato a parte il fatto che serve anche come ridistribuzione di credito ma c'è un una gara al progresso che non c'è nelle aziende private guardate l'alfa romeo l'alfa romeo è stata sempre prima nel progresso il bialbero i cambio a cinque marce la carrozzeria aerodinamica la bellezza la forza la grinta e tutto questo perché perché c'era lo stato che finanziava tutto quello sì è vero poi dopo c'è stato l'assenteismo ci sono state tutte quelle cose lì ma quelle c'erano proprio in quel momento storico oggi se un'azienda come l'alfa la prendesse lo stato sarebbe il top sarebbe ecco vi invito tutti a andarli a vedere quei video perché c'è un importante fulcro di quello che purtroppo stiamo vivendo noi e di quello che purtroppo è la decadenza dei tempi e probabilmente la nostalgia l'invidia di chi ha potuto godere di quel momento e chi invece ad oggi si trova veramente nel fango più totale oggi non abbiamo più liberismo economico abbiamo uno stato oppressivo abbiamo delle delle cose allucinanti anche sia come società sia come libertà che come lavoro veramente e allora anche io mi mi avvicino a quelli che ad oggi hanno nostalgia di un grande statista che servirebbe veramente a rimettere un pochino rimettere un pochino questa nazione in piedi perché attualmente siamo veramente alla fine alla fine più nera che potesse fare questa nazione economicamente come come diritti come come tutto veramente ci vediamo domani ciao a tutti